Cari amici telespettatori, tifosi rossoneri, finalmente torniamo a parlare di Milan perché ha iniziato il campionato ed il Milan ha iniziato con il piede giusto, anche se contro Udinese era iniziata male perché ha preso gol dopo due minuti con Becao, poi il pareggio su rigore di Teo Hernandez, la tripletta di Rebic e quindi poi la partita chiaramente si è incanavata anche su due a due però per fortuna poi ci hanno pensato i nostri ragazzi a regalarci una vittoria ottima che ci serve comunque per proseguire il nostro cammino e sarà lunghissimo quest'anno è durissima perché c'è anche il mondiale ricordiamolo però siamo sicuri che i nostri ragazzi si metteranno molto del loro per riconfermarsi in Italia e soprattutto fare uno step in più in Europa ma ora aspettiamo il mercato che non è ancora finito ve lo ricordo un abbraccio e un saluto a tutti e a risentirci nel prossimo nostro video e come sempre amici telespettatori tifosi rossi e neri forza Milan fino alla fine bene grazie a tutti